ciao sono intoni che fa cose e oggi faremo una cosa che volevo fare da tempo è costruire una cosa assieme e visto che mi è arrivato da poco questo rgm gesta i grade però non bandai ma bensì da ban quindi abbiamo il knock off di questo rgm e vi spiego anche per quale motivo ho fatto un tentativo vabbè ho provato a prendere questo è un astray astray radframe master grade per vedere un po come com'era la qualità di questo brand visto che si risparmiava un pochino due modelli spediti un e grade e un master grade per 33 euro per spedizione mi sembrava un ottimo affare e devo dire che lo è stato per certi versi diciamo che il grosso problema di questo modello a parte che il visore dell'rgm appena l'ho tirato fuori dal pacco il pacco era senza scatola molti pezzi si sono rovinati tipo lo scudo presenza di segni di stress qua sulla sulla parte diciamo finale dello scudo alla metà per fortuna questa parte qua poi la devo pitturare di nero una parte molto sfortunata è stato il visore che appena l'ho toccato si è spezzato letteralmente a metà si riesce a vedere un pelino la crepa ma neanche tantissimo perché sono stato molto molto bravo a nasconderla purtroppo ho perso completamente l'occhietto metallizzato che ho fatto sotto che praticamente non si vede più un cazzo perché se c'è la colla di mezzo c'è va bene tutto sommato va bene mi accontento un grosso difetto di questo diciamo questo modello è è il fatto che le plastiche come si può vedere in questo sulla spalla vedete anche voi quanto sono sfalsate le due le due superfici una e dai metti a fuoco una la due e hanno parecchi difetti da sistemare qua al centro se vedete sembra una plastica fusa è plastica fusa perché c'era un gap di un millimetro tra una plastica e l'altra che non c'era sopra ma c'era solamente qua quindi sì la plastica non è non è per niente male la plastica il problema è la la mold che fa abbastanza schifetto in alcuni punti in altri è perfetta quindi io direi di fare visto che stavo lavorando sulle spalle ma queste quasi stanno questi stanno asciugando le quelle le ho fatto cinque minuti fa tipo un'oretta fa più o meno stavo lavorando sulle braccia con queste dovrebbero essere asciutte però io volevo proprio farvi vedere come si si sistemano appunto questi difetti di gap tra le due plastiche e per farvelo potremmo farlo direttamente con con l'altro braccio che sicuramente prenderà lo stesso scusate per non fai di mangiare presenterà sicuramente lo stesso problema quello è il discorso che ho tutto il modello smontato quindi devo trovarmi pezzettini a occhio eccolo qua se mi ci metto un attimo a capirci allora questo l'ho già preparato questo finisce dentro che praticamente non si vede il signore si rigisellatura qua quindi lo posso tranquillamente incollare così faccio vedere cosa intendevo però dobbiamo fare le cose a modo cerchiamo le istruzioni so che quel pezzo va così ma controllare è sempre meglio che dove spaccare e aprire la plastica si è giusto così è perfetto allora quello che faccio io adesso magari faccio intanto vedere una prova voglio fare una prova vedere se è tanto no vabbè dai è abbastanza morbido per entrare ok vediamo che non ci siano pezzi in mezzo no no diciamo che va bene ok prendiamoci io uso questo il semento della tamia che trovo essere un prodotto davvero ottimo e l'effetto che ha è quello di fondere leggermente lo strato superiore della plastica così permette appunto di fondere le due parti assieme adesso ne apri con uno strato su uno strato poi anche sull'altro aspetto un qualche secondo che la colla faccio effetto devo stare un po' attento a non imbrattarlo con le mie di tazze abbiamo una pinzetta non vado molto a il bordo al fine perché tanto andrò a lavorare molto con le lime e con la carta quasi proprio da un po' attaccio che non potevo anche evitare oppure me ne sbatto perché ci va la copertura da bene abbiamo fatto le due parti adesso ne vado a unire assieme ok adesso vi faccio vedere l'effetto che ha sulla plastica cominciamo per bene forte 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 e eccolo qua vedete che tra le due nell'aggiunzione praticamente è creata una piccola zona di plastica in più e quella parte lì è una parte diffusa che non ci tornerà molto utile poi per essere diciamo levigata a modo qua però abbiamo un grosso problemino un grosso abbiamo un problemino qua che se è un bel gap che poi non so se è fatto così proprio è perfettamente dritto se mi ha fatto fatto apposta che ci sia un gap tra le due plastiche invece no qua dovrebbe essere perfettamente dritto cioè c'è proprio un gradino vedete come salta la pinzetta il trucchetto è questo prendo il nostro bel cement con uno stuzzicadente una gocciolina di questo cement e lo passo proprio proprio su la zona che devo andare a chiudere anche qua così mi prendo un pezzo dei miei runner vedete che l'ho già usato e ce lo ficco dentro al mio cement questo prenderà pezzi della mia del mio runner li porterà sul braccio e mi darà la possibilità di chiudere il gap molto semplicemente senza stuccare visto che questo qua sarà una build senza pittura per la maggior parte però qualche dettaglio e basta quindi adesso sarà la plastica originale anche perché voglio vedere che effetto fa questo modello in high grade senza la penneggiatura solamente che gli metterò uno strato di trasparente sopra alla fine di trasparente satinato opaco vediamo dopo alla fine ecco vedete che ci sono questi bei filetti ecco quelli sono nella plastica che noi vogliamo che si sciolga su quel punto lì e vado a coprire appunto il gap ok adesso con un taglierino nostro bello caro questo è un capo vedete che sto cercando di spalmarlo per benino nella carità ok direi piuttosto perché vedete che il residuo è plastico è fantastica sta cosa ok adesso magari lasciamo questo strato con il gas asciughi poi magari lo ripassiamo in un secondo momento direi di farlo anche in questa zona qua questo che è già bello gommoso basta che lo utilizzo per applicarlo qui e qui qui non serve perché ci andrà questa copertura qua quindi me lo posso tranquillamente risparmiare copertura e poi ci andrà questo no sì questo dovrebbe andare lì in teoria io non so che cacchio sia però dopo lo scopriremo sempre ok comunque io direi che questo è un ottimo trucchetto per evitare appunto di starla a stuccare rendere magari il processo per molti tedioso diventa più semplice e più divertente forse molto meno impegnativo che starla a stuccare e tirare eh sì l'altro si vede che è un po' cioè l'altra parte è un po' più è un pelino più spessina come cazzo sto parlando? spessina madonna beata sì sì è un po' più è un gap un po' più stronzo vediamo se riusciamo a sistemarlo così un po' di più preoccupatevi di potacciare tanto che la fine tutta questa parte di superficie verrà tutta quanto tirata a carta e a lima quindi va bene che venga fuori un casino vi faccio vedere un pezzo erano uguali a questo all'inizio quindi se vedete il risultato è ottimo sparisce tra parentesi la linea di giunzione tra le due parti fantastica sta cosa e tutto con un semplice collante lo trovate su ebay intorno ai 5-6 euro spedito sopra quella cifra la lo trovo un po' caruccio sinceramente anche se ne vale la pena perché fate tutto lo potete usare anche come stucco alla fine direi che adesso è venuta fuori molto molto meglio qua ancora forse da si vediamo se magari ho un po' di fortuna riesco a chiuderlo direttamente con la pinzetta vedete quanto è divertente perché diventa molto malleabile la superficie quindi posso sistemarla ho ancora un margine di tempo per riuscire a sistemarla prima che la colla ritorni al suo stato normale cioè rigido e lavorabile è una figata come vi dicevo secondo me questa cosa qua rende tutta quanta la lavorazione di questi piccoli modelli i grade molto meno impegnativa è più divertente e spassosa cioè almeno per quanto mi riguarda invece che fare un modello tipo un master grade ci voglio un giornate solo per carteggiare pezzi e stuccarli prepararli col primer via dicendo così insomma penso nella settimana un bel modelli anche meno un paio di giorni un paio di giorni non lo fate questo ci vorrà un po' di più perché essendo un tarocco con delle plastiche di merda no scusate un tarocco con delle buonissime plastiche ma con delle fusioni con delle mod di merda diventa un po' difficile aspetta che togliamo via questo che mi è venuto fuori tanto bene che non voglio rovinarlo ma è meglio e via intanto adesso mamma mia anche qua sto gap grande e niente devo farlo anche qua per me è un po' anche una sfida per riuscire a migliorare la tecnica tra parentesi sono anni che non faccio tanto modellismo come adesso perché mi è ripresa la scimmia di fare modellini di Gundam prima mi ero fermato all'ultimo modello che ho fatto è stato uno Zoiz della Kotobukiya o come cazzo si scrive o pronuncia ho sempre grossi difficoltà con quella marchio e non mi ha divertito per niente cioè è bello ma si è spaccato delle plastiche veramente orribili cioè non è che sono le plastiche orribili strutturalmente è fatto male per certi pezzi comunque anche quello là non dico nel breve ma sicuramente lo voglio di verniciare lo voglio verniciare a testa a piedi e dargli un po' più di un po' più di gloria un po' più di giustizia perché il design di quella tigre è fantastico e lasciarlo così non dico incompleto perché non è incompleto ma mezzo verniciato mi secca parecchio pare che l'ho pagato veramente la monata però è bella è proprio bella è bella e e basta e basta e niente io vorrei riuscire a portare questo questa serie più spesso e fare un appuntamento fisso non so sai 10-15 minuti di video uno o due volte a settimana tanto queste cose qua le faccio velocemente e le carico senza grosso editing le carico su e come vengono vengono giusto anche per per ricordarvi che esisto sul canale perché fare le recensioni quelle in stop motion avete visto che ci vogliono mi ci vuole troppo tempo col lavoro poi veramente diventa dura perché anche al lavoro ci sono giornate ci sono periodi di momenti in cui ho una strage momenti in cui magari ho più buchi e posso permettermi di fare qualcosina ho anche piccoli progetti personali che coinvolgono altre cose insomma quindi potrebbe immaginare che quanto tempo mi ci voglia e quanto poco tempo posso dedicare per fare queste cose mi piacerebbe dedicarlo di più sicuramente ovvio e per quello mi metto a fare queste cosette qua che sono il mio antistress e così come dire unisco l'utile e il direttevole e nel frattempo straparlo parlo tantissimo così magari miglioro anche la mia parlata e così veramente diventa un ottimo strumento sia per me che per chi non lo so per voi così imparate anche voi magari qualcosina di nuovo o poi ci possiamo scambiare consigli quello sicuramente quello sicuramente è molto utile per tutti quanti bene allora qua si dovrà asciugare abbastanza qua è già sciotto e vediamo di tirarlo a parte che questo è davvero semplice perché il lavoro fatto prima di fusione con il nostro bel ve lo metto giù in descrizione il link se lo trovo sui veicolo a cui l'ho comprato ci sono anche tipo 3-4 giorni ad arrivare è stato pochissimo qua in Italia lo trovate a non lo so adesso io voglio provare con la lama questa limetta qua questa dovrebbe essere una 406 e niente poverino il mio iphone si chiude si spiega per il caldo e ho perso un po' di filmato vi facevo vedere che praticamente ho tirato questa zona qua con la limetta questa limetta qua che è più o meno da 150-200 grammi 200 grammi di grame si dice non so e ho tirato la prima parte adesso tiro anche questa parte qui e stavo facendo appunto vedere che questo tipo di lima non lo uso spessissimo non c'è che uso quando devo togliere grosse porzioni di di plastica perché tende a creare tanti piccoli graffi dei solchi diciamo e sono più difficili da togliere comunque bisognerà sempre togliere però faccio prima diciamo a togliere il grosso e adesso faccio la stessa cosa faccio vedo di rendere questa parte bella dritta e togliere via questo piccolo gap se ce n'è ancora uno qua il trucchetto per evitare di perdere l'angolo qua bello dritto e muoversi sempre nel limetta in senso unico quindi da destra verso sinistra destra sinistra se faccio avanti e indietro gli angoli li faccio rendere arrotondati noi non lo vogliamo perché già ha pochi dettagli questo modello non è che c'era abbastanza di dettagli come si però già di piccoli di fettucci noi lo vogliamo renderlo bello nitido pulito non arrotondato sempre nello stesso verso e che abbiamo aggiunto il nostro scopo ok mi pare che ci siamo abbiamo una bella passata con questa questa è la limetta che in teoria fa 150-300 di grana no grammi grana che pirro va bene è tardi ho un po' di sonno ci sta che mi 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 sbaglio tanto che non sbaglio tante parole di altro che non me le mangio più di tanto comunque e mi domandavo per quale motivo il telefono si scadava così facilmente stavo registrando in 4k a 100 megabyte per secondo ovvio che si scalda deve processare chissà quante cose eeeh vabbè vediamo se che pirla maledizione che sono eeeh ok direi che ci siamo spostiamo un po' sta luce che fa schifo dovrò sistemare un po' l'illuminazione sono i primi tentativi questi comunque dove eravamo rimasti mi sono perso un paio di cose che ho trasferito i file sul computer che dovrò ridurre che sono tipo già 11 megabyte di soli 15 minuti eeeh giusto stavo lavorando questo pezzo qua anzi ho girato la telecamera nel frattempo quindi è acqua scusate è stato un errore mio ok qua ce la facciamo a mettere a fuoco no ok grazie qua ho sistemato un attimo un pezzo ci sono ancora un paio di zone vedete che ci sono questi due cacchio di fuoco fuoco qua questa e questa qui sono due linee dovute proprio allo stampo le ho fatte perdere un pochino ma vorrei riuscire a ridurle ancora un po' di più vediamo se compagniamo allora questa è carta da 400 grammi non c'è scritto però non mi rendo conto dal tatto stavo pensando di portarla in live però io ho un grosso problema qua che dove abito io in questa zona in tutto 100 metri da questa zona qua c'è ma qua la fibra non arriva è sempre stato carino portarlo in live leggere i vostri commenti rispondere direttamente ho capito che siamo che ho il canale veramente bagnubo 150 iscritti sono davvero 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 pochi come quantità però non mi dispiacerebbe riuscire a portare qualcosa in live magari non dico tutti i giorni ma almeno due volte a settimana come appuntamento fisso per me serve molto poco impegnativa come cosa perché sono cose che comunque io faccio che mi piace fare quando magari fischio di lavorare dopo un paio di un'oretta per portare avanti i miei custom qua i miei piccoli Gundam che poi preparo ovviamente per le recensioni quindi se è stato carino magari farli in live assieme e dopo li preparavo li preparavo facevo la recensione scrivo lo script facevo il testino e poi ci facevo la review definitiva magari con non tanto stop motion qualcosina già così vedo che sono sparite completamente adesso faccio movimento sinistra destra velocemente perché qua non ho grosse parti da mantenere accuminate o comunque ben dettagliate che sono tutte abbastanza ai lati qua e anche anche se sono uscito un po' arrotondato pare che è arrotondato ok ok direi che sì va benissimo se impido una carta un pelino meno grammata meno grana soddisfattissimo come vedete qua ho chiuso con la nostra il nostro bel cement il mio bel cement 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 e ho perso quasi totalmente la linea di congiunzione delle due plastiche qua è voluto perché è continua come cose ci sta vorrei riprendere un attimino qua che si vede un pedino il gap ma non oggi magari domani qua è un po' bianco però penso che con col wash che andremo a fargli dopo questo lavabo quello questo segnetto bianco lo perdo se perché non riesco a tolgerlo con il mio bel cutter trovate il link per questi cutter giù in descrizione 9 euro 3 di questi cutter e 30 lame ottimo affare spedizione in un giorno con prime spettacolo tolto sparito si 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 molto molto contento bene quindi abbiamo il torso che è praticamente pronto mancano solamente queste parti però devo prima veniziale di nero opaco la testa che è fatta devo perniciare questa zona di azzurro e sta roba qua mi fa impazzire cioè fanno tutti i pezzi separati della testa questo no questo no devi verniciartelo ma ma perché perché vabbè questo devo finirlo quindi lo stacco se non lo dimentico lo mettiamo proprio dopo e volevo andare a vedere con voi prima di chiudere questo video come eravamo rimasti sul nostro bello abbraccio mi pare che ci siamo qua è andato fuori proprio bene e il gap si è perso completamente e adesso visto che è passato un po' non credo che sia asciutto completo ve lo fai vedere come lo tirano questo io se si aspetta un po' di brightness devo cambiare luce tenere una un po' meno forte basta che faccio così intorno mamma di ombra allora madonna fa una luce incredibile che a me va bene perché ci vedo bene però rovinato con gli eti va bene così per me ne resta un po' stendi così non è male va bene però voglio vedere se è abbastanza asciutto no è troppo morbido ancora sotto voglio farvelo vedere su lo cacchio qua ma l'ho fatto che ora questo l'ho fatto oggi l'ho asciutto non è asciutto nemmeno questo vi rendete conto perché la lima non va bene avanti non va giù bella liscia anzi tende a frenare che non è una cosa proprio buona anzi per niente e niente lo facciamo lo facciamo domani a questo punto lo facciamo domani lo facciamo questo punto lo mai giuro di sistema di illuminazione si ecco così vi faccio vedere come si chiude questo così dove posso anche mettere già quello e vedere se si chiude bene no devo vedere questa che va sarà un po' il cattivo ok sì c'è un'altra qui top veramente super bene stava venendo addio come ho detto cioè la plastica è davvero buona il problema è la monta che per certi versi è spazzatura proprio degli anni 90 cioè tecnologia vecchia secondo me per il resto invece è stupenda davvero basterebbe aggiustare un attimo il tiro per quello dei prodotti veramente super invidiabili prenderei questi piuttosto che bandai adesso sì sto raschiando qua perché faccio è difficile non ci posso arrivare facilmente con la con la lima e neanche con la carta raschiare qua è un punto davvero facile da fare e molto molto più veloce così se ci parlo con la carta diventerai stronzo ok facciamolo un po' meno edgy io ce l'ho sull'edgy oggi e non mi viene in mente come si dice in italiano vabbè mi verrà in mente quando finirà sicuramente il video prendo la carta perché non voglio usare voglio andare un pelino più veloce più rapido così chiudo il video e non vi tedio il tiro poi vi dite voi insomma nei commenti se questo tipo di video vi piace se secondo voi è una cosa che posso portare comunque il live anche se siamo molto pochi magari sai aiutare anche la crescita insomma porta su altra gente se è una cosa che comunque vi piace seguire ciò a me torna utile per tante cose diventa allenamento intanto per iniziare a parlare un po' più decentemente così mangio un po' meno parole l'altra cosa è che migliora la mia tecnica su questi piccoli model kit è andato vado avanti e faccio tante cose assieme faccio questo model kit che può utilizzare dopo la recensione faccio crescere un pelino in un canale e imparo a parlare che è arrivati alla veneranda età di 35 anni che è arrivato a tempo ora questo pezzettino qua di spugna lo incontreremo magari quando faccio la preparazione per l'aerografo ok direi che ci siamo passo di nuovo la 400 così da tirarla un po' meno di merda per togliere via i graffi i solchi quelli che l'hanno visto all'inizio ok comunque veramente fa un caldo infernale sti giorni qua ok direi che più o meno siamo arrivati a un punto molto molto felice adesso questo l'ho proprio pulito super velocemente e penso che ma che sfiga proprio cadere il punto bianco potevano comunque studiarlo un attimino un po' meglio queste cose qua cioè lo sai che cade là cazzo nascondilo metterlo giusto giusto un centilio 5 mm più indietro vabbè proviamolo quello sicuramente da sistemare quel punto bianco lì però cacchio sta venendo fuori bene facciamo un attimo una prova con la manina beh questo serve a a me per per darmi un effetto visivo e darmi un po' di gratificazione per il lavoro fatto lo faccio tutte le volte monto e smonto così gratifico visivamente sul lavoro che sto facendo ah che bene che sta venendo qua si è proprio chiuso bene non vedo l'ora di farlo domani questo quando è bello asciutto beh è bello articolato anche proviamo a metterlo così anche vediamo un po' la figura come sta venendo su e qua vedete che ci sono gli stress mark sulle dita vedo se riuscirò ok ma no non ti devo farlo vedete e qua non so che fare non so se mi conviene staccare le due dita e rincollarle sempre col cement proprio per evitare che mi si stacchino dopo in un'altra maniera vabbè magari lo vedo domani guarda dove è finito il fuoco qua è finito il bastardo il fuoco ma perché è finito qua sopra dovete scusare ma sto imparando a utilizzare questa applicazione a oggi quindi vediamo se eh infatti eh già eh vabbè devo imparare a a guardate che pieni si vede adesso cazzo l'illuminazione è un'applicazione nuova che devo dire è veramente ottima perché blocca il fuoco più chiaro l'esposizione senza farmi questi bagliori bianco bianco nero nero va bene direi che per oggi è tutto mettiamo la testina così vediamo anche lui che bellino sta venendo fuori e ci vediamo alla prossima al prossimo step di questo piccolo gumpla bladan da bam blan blan ciao a tutti ciao a tutti